Forse il test di Bologna non era dei più probanti, ma i due punti del parquet Felsinio contro un avversario ridotto ai minimi termini costituiscono un ulteriore passo avanti verso i play-off per la Reier Venezia nel massimo campionato di basket. Mancano ancora otto gare alla fine della regola season, ma il confronto che attendi i ragazzi di Andrea Mazzone nel prossimo turno, impegno al palataliercio contro Caserta, rappresenta la sfida da vincere a tutti i costi per affrontare con l'opportuna serenità il cammino che separa dalla fase decisiva della stagione. Eppure, come già contro Cremona una settimana prima sul parquet Amico, Clark e compagni non hanno iniziato nel migliore dei modi, pur se in terra bolognese rialzare la testa è stato meno faticoso, tanto che la gara ha avuto praticamente fine al termine del primo quarto. Poi i lagunari hanno controllato l'avversario senza fatica, consentendo a coach Mazzone di ruotare gli uomini del roster e disputare una sorta di allenamento impegnativo in vista del confronto con i campani. Al fischio finale della gara di domenica 14, comunque vada, i giochi non saranno ancora fatti, ma è certo che un successo caricherebbe in modo significativo il team lagunari in un torneo che giornata dopo giornata risulta sempre più appassionante ed equilibrato. E chissà che con la primavera sbocci il fiore orogranata, nel momento giusto per ripetere e magari migliorare ma non allarghiamoci, se no patron Brugnaro ci scomunica. La bella stagione scorsa, anche se in questa un grande risultato la società orogranata l'ha già raggiunto, diventando l'unico sodalizio di A1 in Italia ad essere rappresentato sia a livello maschile che femminile.